quotidianamente da monito sia per lo Stato sia per tutti noi. Agnese diceva io e i miei figli siamo rimasti quello che eravamo e io sono orgogliosa che tutti e tre abbiano percorso le loro strade senza trarre alcun beneficio dal nome pesante del padre. Di questo siamo grati a Paolo, ci ha lasciato una grande elezione civile. Diceva che chiedere un vuol dire diventare debitore di chi te lo concede. Era così rigoroso e attento al senso del dovere che alla fine della giornata si chiedeva. Ho meritato oggi lo stipendio dello Stato? Grazie. Grazie. Grazie anche alla deputata Mannino. Ha chiesto di intervenire il collega Rizzetto, Walter Rizzetto, Nea Facoltà. Grazie Presidente, gentili colleghi, pochi intimi se devo dire la verità. La nuova formazione di governo non ha ancora mosso i primi passi e siamo già qui a dover riprendere e sottolineare alcune dichiarazioni di intenti fatte a mezzo radio per poi essere riportate dalla stampa dal nuovo Ministro dello Sviluppo Economico, deputato Zanonato Flavio. Il Ministro ha infatti dichiarato in maniera a nostro avviso inappropriata ad una trasmissione radiofonica che, cito, l'energia nucleare è una forma di energia. Se si può gestire non è sbagliata di per sé. Ricordiamo il Ministro e dal Governo che durante i referendum abrogativi del 12 e 13 giugno 2011 circa 25 milioni e 600 mili italiani hanno votato sì all'abrogazione delle nuove norme. Dicevo delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare. Chiediamo quindi a gran forza di rispettare la volontà popolare e di non fare dichiarazioni che, anche se in parte, riportino il tema sotto i riflettori. Il capitolo energia nucleare è infatti chiuso, almeno in questo Paese. All'avvio dei lavori del Ministero e di sua pertinenza ci aspettavamo un insipit del tutto differente e vogliamo oltresì ricordare a lei, Presidente, al Ministro Zanonato e dei gentili colleghi, quanto sia devastante l'utilizzo dell'energia nucleare in termini di gestione dei costi. Deputato Rizzetto, mi scusi. L'argomento da lei trattato è materia tipicamente di un'iniziativa di sindacato ispettivo. Prima che altri colleghi che già vedo, mi guardano con occhio, me lo facciano notare, io sono costretta a dirle che questa non è una materia da trattare nell'ordine dei lavori. Quindi la prego di chiudere l'intervento e di non ripetere l'esperienza. A questo punto chiudo il mio intervento ricordando che oggi è il 37esimo anniversario del terremoto in Friuli. Con i suoi 4.827 km è stato territorialmente il più vasto terremoto che sia mai avvenuto entro i confini dello Stato italiano.